Mamma mia, mamma mia ragazzi, che cosa è successo, che cosa sta succedendo, che cosa succederà? Scenari davvero clamorosi, incredibili, ma che si stanno attuando perché sta diventando realtà. Ci sono ufficialità importanti, scenari da analizzare insieme, reazioni, ci sono richieste di escluderci anche dal campionato, non solo noi, ma noi pensiamo al Milan. Buongiorno ragazzi, ben ritrovati, questa mattina vi ho dato un buongiorno con le pagelle, ma adesso proseguiamo di slancio perché sta succedendo davvero la qualunque. Iscrivetevi qui, attivate la campanella mi raccomando e lasciate tanti like, tanti tanti like qui sotto. Ieri vi abbiamo anticipato dell'ipotesi ormai imminente della Superlega, con le minacce dell'UEFA, esclusione dai campionati, dalle competizioni europee, per chi ne facesse parte. Questa notte è arrivata l'ufficialità, comunicato ufficiale nasce la Superlega, c'è il Milan, innanzitutto c'è il Milan, c'è l'Arsenal, l'Atletico Madrid, il Chelsea, il Barcellona, l'Inter, la Juventus, il Liverpool, il City, il Manchester United, il Real, il Tottenham, questi sono i club fondatori, sono 12, se ne aggiungeranno 3, quindi si arriverà a 15, e questi club fondatori avranno sempre diritto, accesso automatico a questa Superlega. Gli altri 3 evidentemente sono alcuni club che stanno facendo la Champions League e hanno paura di essere estromessi. C'è anche questa possibilità che ad esempio Real, City e altri che sono impegnati alle cooperative possano essere estromessi già in questa stagione dalle competizioni attualmente in corsa. Attenzione, Champions League e Europa League. Che cosa viene scritto? In futuro i club fondatori auspicano l'avvio di consultazioni con UEFA e FIFA al fine di lavorare insieme cooperando. Sostanzialmente cerchiamo di metterci d'accordo. C'è questa Superlega? Nelle nostre idee non ci sarà più Champions League e Europa League? Si potrebbe trovare magari una formula, una Super Champions League che vada bene a tutti, con distribuzione di soldi migliore ai club rispetto a quello che è oggi. Questa crea Superlega, comunicato ufficiale, arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l'instabilità dell'attuale modello economico del calcio europeo, ci sono visioni strategiche, un approccio sostenibile dal punto di vista commerciale, devono essere riviste varie cose, sintetizzo, il format. Poi vediamo cosa cambia ad esempio anche per il Milan, i scenari, le minacce di escludere Milan-Inter-Juve dal campionato italiano, anche dall'attuale e come poi gli sforzi per arrivare in Champions League, per arrivare tra le prime quattro, si sposano con questa situazione. Allora, 20 club, 15 club fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre 5 squadre, cioè una squadra per i principali top club, top campionati europei, si può qualificare a turno, chi arriva più in alto, ad esempio Roma-Napoli, vediamo, per il campionato italiano. Partite infrasettimanali con tutti i club partecipanti che continuano a completere nei loro rispettivi campionati, preservando il tradizionale calendario di incontri a livello nazionale che rimarrà il cuore delle competizioni tra club. Sostanzialmente per questi club si continua a giocare il campionato, la domenica e il sabato. Il martedì e mercoledì ci sono questi turni infrasettimanali dedicati solo ed esclusivamente alla Superlega. Impariamo a conoscerlo questo termine. Però questo si scontra con le minacce di Seferin, dell'UEFA e anche della Lega di Serie A e della FGC che dicono che aderisce a questo progetto non farà più i campionati. Adesso vediamo gli scenari come poi vanno avanti. Inizio ad agosto di questa Superlega, due gironi da dieci squadre che giocheranno sia in casa che in trasferta con le prime tre classificate di ogni girone che vanno automaticamente ai quarti di finale più attenzione le quarte e le quinte che si scontrano per accedere ai quarti di finale. Il formato eliminazione diretta sia in casa che in trasferta verrà utilizzato per raggiungere la finale a gara secca e che si disputerà alla fine di maggio su un campo neutro, in uno stadio neutro. Progetto che potrebbe essere poi dedicato anche al calcio femminile. Ci sono tanti, 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 tanti soldi in ballo. Perché? Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall'attuale competizione europea. L'UEFA si tiene tanti soldi oggi, troppi. E si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club. Il torneo sarà costruito inoltre su una base finanziaria sostenibile con tutti i club fondatori che aderiscono ad un quadro di spesa. Non ci sarà più il fair play finanziario, ma ci saranno dei tetti oltre i quali non bisognerà andare. E verranno incamerati tanti soldi da ogni club. Pensate, in cambio del loro impegno, i club fondatori riceveranno un contributo, una tantum, pari a 3,5 miliardi di euro. 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani di investimento in infrastrutture per bilanciare l'impatto della pandemia Covid-19. Florentino Perez, presidente di questa nuova Superlega, si è rimesso dalle Cagnelli, chiedo scusa, che ne era il presidente. E quindi, ragazzi, svolta epocale. Prime riflessioni. Intanto capiamo perché, ad esempio, Suning nell'Inter si è voluto rimanere. Perché se va in porto questa cosa l'Inter vale molto di più. Capiamo soprattutto, per quanto ci riguarda, perché il Milan con Eliot non abbia voluto vendere e sia ben collocato nella realtà Milan. Adesso entreranno tanti soldi. Tanti, tanti soldi, se andrà in porto. E se andrà in porto, probabilmente, ci dovremo abituare ad un calcio sicuramente diverso. Con gli altri club che verranno pian piano distanziati dai top club. Principio democratico no? Meritocratico no? Scusate. Però ricordiamo che quest'UEFA è un UEFA che ha punito, ad esempio, il Milan, che ha fatto due pesi e due misure, che ha permesso al PSG, al City, di spendere e espandere con sponsorizzazioni fittizie. In questo caso sarà necessario però capire come verranno distribuiti i soldi anche tra i club esclusi, per evitare che ci sia una desertificazione dell'extra Superlega. Attenzione perché ci sono i governi che possono avere una voce in capitolo determinante. Possono utilizzare il pugno di ferro, qualcuno ha già minacciato. E quindi provare a far saltare questo progetto. Dall'altra parte, Atalanta, Cagliari e Verona hanno chiesto l'esclusione della Serie A, dalla Serie A, delle tre big che hanno accettato di far parte del progetto della Superlega. Quindi questi tre club hanno chiesto esclusione di Milan, Inter e Juventus. Perso dunque una stagione di ricorsi, di avvocati, di tutto e di più. Attenzione davvero perché è qualcosa di clamoroso. Dall'altra parte rifletto ad alta voce e dico che se Milan, Inter e Juve fanno questo passo hanno degli elementi in più, hanno delle alleanze maggiori. Credo anche che la minaccia di escudere i campionati italiani sia abbastanza aleatoria perché si tratta di una competizione privata, quindi si può aderire. E poi i campionati italiani senza Milan, Inter e Juve falliscono un secondo dopo. È qualcosa di clamoroso. Vediamo come evolve, ripeto. Sicuramente è strano. E poi ci stiamo sforzando fino all'ultima goccia di sudore per arrivare in Champions League e poi non la facciamo. Anche questo è bizzarro. Non credo che non la faremo. Credo che questo progetto che è stato imbastito e si prova ad avviare in questi giorni non sarà a regime dall'anno prossimo. Secondo me l'anno prossimo sarà ancora Champions League e Europa League. Nascerà credo una sorta di dialogo, in qualche modo si spera costruttivo, con UEFA per provare ad arrivare a una misura di mezzo, coinvolgere l'UEFA in questo progetto e provare a distribuire i soldi diversamente rispetto a come l'UEFA invece se li tiene maggiormente per sé. E insomma bisogna navigare a vista. Sicuramente è una svolta clamorosa. Ci sarà un prima e un dopo. Un prima rispetto a questa notte, lo conosciamo. Un dopo rispetto a questa notte che non conosciamo ancora e che sarà sicuramente un inedito. Personalmente sono un po' confuso. Prima di esprimermi voglio metabolizzare, non è facile, come credo che anche per voi sarà così. Quali possono essere i benefici? Che intanto i club che in questo momento vivono una situazione difficile dal punto di vista economico avranno una ventata di soldi freschi. E quindi non mi sentirete dire più, probabilmente, ma a questo giocatore non ce lo possiamo permettere. Questa è un'idea primordiale. Dall'altra parte però, penso al campionato, si gioca per lo scudetto e basta. Nel senso, se tanto queste squadre vanno comunque in questa Superlega, arrivare ai secondi, terzi o decimi non cambia nulla. Quindi calo un po' lo spettacolo a livello di campionato italiano, questo sì. A livello globale, pensare di avere Milan-Manchester, la stima dopo Milan-Liverpool, poi andiamo sul campo del Real Madrid, questo diventa affascinante. Qualcosa andava rivisto, probabilmente, nel meccanismo della Champions League. A livello di spettacolo è venuto un po' meno. Ad esempio, pensare che va in Champions League con tutto rispetto, i rubi di Calzan e non ci va il Milan, non va bene. Dall'altra parte però, ripeto, è una svolta clamorosa e va gestita, va toccata con cautela. Non abbiamo ancora le istruzioni, cerchiamo di assorbirle in queste prime ore. E' clamoroso. Voglio sentire il vostro parere qui sotto, con ulteriori elementi rispetto a quanto vi anticipavo già ieri. Mi sento di dire che, sbilanciandomi, l'anno prossimo la Champions League ci sarà. Se arriveremo nei primi quattro, la faremo. Ci sarà un dialogo, Super Lega-Champions League. Secondo me si troverà una misura intermedia, però il calcio cambierà. Cambierà evidentemente e si andrà incontro a nuove esigenze. Un po' di tutti, o quasi tutti. Un abbraccio, ci vediamo dopo per altri aggiornamenti. Ora le pageli di questa mattina, se non le avete ancora viste. Mamma mia, ragazzi. Chissà, chissà. Sappiamo quello che lasciamo, ma non sappiamo quello che troviamo. Ma non è detto che quello che troviamo non sia meglio di quello che lasciamo. Forza mina. Ciao.